Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Luca, capitolo 11, versetti 37 a 41. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse, voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno, non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Parola del Signore. Ecco, questo brano ci parla della condanna del ritualismo. Perché il fariseo invitando Gesù Cristo, sapendo che Gesù è un rabbino, Gesù Cristo è un uomo che dice la verità, il fariseo aspettava da Gesù Cristo, giustamente, di compiere questo gesto di abluzione, lavare le mani prima di mangiare. Ma Gesù non l'ha fatto. Era come uno scandalo da parte del fariseo. Ma Gesù Cristo ogni volta fa le cose per trasmettere un messaggio forte. E il messaggio forte che lui vorrebbe trasmettere, giustamente, è la condanna del ritualismo, come ho detto prima. Perché i farisei focalizzano l'attenzione su ciò che è esterno e non ciò che è interno. Cioè, loro cercano di migliorare la parte fisica, ma non la parte interiore del cuore, non arrivare a una vera e sincera conversione. E perciò Gesù paragona il corpo umano o l'uomo a un bicchiere, dicendo a questi farisei che voi pulite soltanto la parte esterna del bicchiere, ma la parte interna rimane come dentro. Che cosa ci abbiamo? La vigita e la cattiveria. Ecco quello che Gesù rimprovera a questi farisei. Basta di leggere il capitolo 23 di Matteo per renderci conto di questo rimprovero. Allora, Gesù Cristo vorrebbe dunque invitare i farisei a non accontentarsi soltanto a apparire, ma a essere, a coniugare il verbo essere. Loro che sono religiosi dovrebbero dimostrare agli altri che sono proprio religiosi. Cioè, la parte interna dovrebbe riflettere, cioè la parte esterna dovrebbe riflettere la parte interna positivamente. E perciò Gesù ha detto, date piuttosto nell'emosina quello che c'è dentro ed ecco per voi tutto sarà puro. Come per dire, invece di accontentarvi a migliorare la dimensione esterna, migliorate anche la dimensione interna facendo l'emosina. Cioè, aiutando o aiutare le persone, solo nell'aiutare le persone, nel pensare a chi è bisognoso, allora voi veramente sarete puri. Nel senso che camminerete secondo la volontà di Dio, secondo la legge di amore del Signore. Ma i farisei non entrano in questo amore, perché loro cercano sempre di approfittare dal popolo, dalla gente. E' quello che Gesù condanna. Dunque, i gesti loro lo fanno per fare. Lavare le mani, solo per fare. Lavare i piedi, solo per fare. Il cuore è lontano da tutti questi gesti. I gesti che compiono non entrano in una dimensione interna, una dimensione spirituale, che potrebbe metterli in contatto con il Signore. Allora, Gesù dice, è inutile compiere dei gesti che non ci danno nulla, cioè che non ci mettono in contatto con il Signore. Ecco, carissimi, penso che siamo numerosi a ritrovarci nella condizione dei farisei. Tanti di noi appaiono. Tanti di noi coniugano il verbo apparire invece del verbo essere. Tanti di noi migliorano l'aspetto, diciamo, l'aspetto fisico, l'aspetto esterno. Dunque, pensano soltanto ad apparire a tutti quanti, a essere in prima fila, a essere applauditi dalla gente. Ma all'interno è pieno di rabbia, di abidità, di gelosia, di cattiveria, di ingiustizia, di racismo, di tante mille cose. Il cuore nostro è pieno di tante queste cose. Ma davanti alla gente facciamo finta. Quando siamo a Messa, in chiesa, al gruppo di preghiera, dovunque noi facciamo servizio, noi cristiani ci comportiamo come i farisei apparire. Gesù ha detto no, non cerchiamo di apparire, ma cerchiamo di essere. Purifichiamo il cuore nostro, togliamo tutta questa cattiveria, tutta questa sporcizia che ti impedisce di essere in contatto con il Signore. Non cerchiamo soltanto di migliorare la dimensione sociale, la dimensione familiare esternamente, ma piuttosto internamente. E' quello che è più importante. Cerchiamo di fare l'emosina, cerchiamo di essere noi stessi insieme a Cristo applicando l'amore suo. E' lì che noi risplenderemo in mezzo alla gente come una luce che risplende. Allora Gesù ci sta rimproverando di pensare soltanto alla dimensione esterna, ma ci invita a pensare alla dimensione interna, cioè la conversione. Apriamo il cuore a chiunque e lì troveremo la gioia di vivere. Vi auguro una buona e santa giornata. Che Dio vi benedica sempre. Grazie. Grazie.